Doveva essere il giorno delle decisioni e della svolta in casa Foodinvest, invece ci si è trovati a fare i conti con un nuovo rinvio. Il tavolo tecnico che ha riunito i sindacati nazionali, locali e provinciali, nonché il vicepresidente della provincia Emidio Mandozzi e alcuni esponenti del Ministero per lo Sviluppo Economico, si aggiornerà il 18 marzo, fra una settimana esatta. Permane infatti la spaccatura interna ai sindacati, con la CGL arroccata sull'amministrazione controllata e CISLEWIL che puntano alla Cassa Integrazione. Due linee parallele che non sembrano destinate ad incontrarsi. Così si propende per una terza via, l'istituzione di un commissario straordinario. Ipotesi che trova d'accordo gli operai, ma che senza una richiesta ufficiale della proprietà, cioè di Aristide o Mario Malavolta, difficilmente potrà concretizzarsi. I 200 operai dovrebbero probabilmente chiedere supporto alla Foodinvest di Menduno, altro stabilimento del gruppo, per avanzare congiuntamente la domanda di commissariamento dei due siti. La sede di Menduno, però, di recente è stata riaffittata e quasi certamente non appoggerà la manovra dei dipendenti di Portodascoli e della Marollo di Rotella, che da soli non avrebbero il potere necessario ad avanzare una simile richiesta. Insomma, la situazione appare quanto mai intricata, ma di fronte alle incomprensioni interne ai sindacati, l'unica strada percorribile pare proprio quella del commissariamento, sul quale si saprà qualcosa in più martedì prossimo. Il commissario potrebbe essere infatti uno spiraglio di luce per lo stabilimento sanmenedettese, visto che, almeno nell'immediato, nessun compratore ufficiale né affittuario sembra essersi fatto avanti. Una situazione di stallo che sta mettendo in ginocchio i 200 operai degli stabilimenti di Rotella e Portodascoli. Tra proteste, sit-in, cariche all'auto dei malavolta e volantini satirici, gli 86 dipendenti della sede di zona agraria sono ormai estremati. Si spera solo in una fumata bianca che martedì prossimo potrà restituire una speranza alle oltre 80 famiglie di San Benedetto e dintorni.